Aspetta, aspetta, lo sentite? Lo sentite ragazzi? È un tagliaerba, sta passando un tagliaerba qua dietro, mio zio sta tagliando l'erba. Questo vi fa capire una cosa che non è un video assolutamente serio, perché se no avrei aspettato che il tagliaerba finisse. È un video però utile, vi devo dire una cosa velocissima, che ho già detto in altri video, però avendola appena accennata in certi momenti, so e vedo anche dalle domande che non tutti hanno capito bene la cosa. Quindi, sarò a Roma per il Romics? Sì, ci sarò anche con gli altri, ognuno avrà i suoi giorni, i suoi impegni e tutto quanto. Sto video neanche lo taglio, cioè proprio non ho più un cazzo di voglia di far niente. Ragazzi, sto facendo gli straordinari, ieri sera, dopo aver recato tutto il giorno fino a luna di notte, siamo rimasti io e Marci, testimone, siamo rimasti fino alle 5 di notte per montare tutti i video, caricati mentre dormivo e forse oggi finirò, e per questo anche una faccia sconvolta, sto caricando un botto di video per preparare la fiera, ci saranno video tutti i giorni, anzi domenica ci sono anche due video, per cui si fanno anche gli straordinari qua. Quindi, se non siete la fiera, non preoccupatevi che i video non mancano. In ogni caso, Romics, si diceva, sarò presente sì da venerdì a domenica, quindi venerdì 8, giusto? Sì, venerdì 8 mi pare, sabato 9, domenica 10, venerdì arrivo la mattina, per cui forse in fiera di mattina non mi trovate, però ci sono il pomeriggio e poi farò tutti gli altri due giorni full. E niente ragazzi, vi volevo solo dire quello, a padiglione 8, stand A30, divimove. Mi troverete lì la maggior parte del tempo, se non sono lì probabilmente sono un attimo a riposare in giro, fuori, a fare un giro in fiera con gli altri, insomma. Quindi ragazzi, se siete a Roma, se siete a Romics, passateci, salutiamo, facciamo una foto insieme, scambiamo due chiacchiere se è possibile, non fate la ressa davanti alle transenne, perché ogni volta succede che qualcuno si fa male o sta male, quindi ragazzi vi prego calmi, tanto siamo, veniamo lì solo per, non solo per voi, cioè ci divertiamo anche noi da andare, però è un'occasione per incontrarsi, quindi non c'è fretta, si fa tutto con calma, non fatevi male, ci vediamo lì, sono stanco, non ce la faccio più, non ho più voglia di fare neanche questo video, che non monterò neanche, lo caricherò così grezzo, vi devo solo dire questa cosa, quindi niente, è un video brutto, non lasciate like, perché non serve, e se vi interessa qualcosa di più, vi lascio il sito del Romics in descrizione, così potete vedere come si raggiunge nel caso di tutto quanto, anche se a questo punto penso che chi verrà ha già acquistato i biglietti e tutto quanto, quindi non sono qui a vendere biglietti, anzi non me ne frega un piffero, mi interessa solo che chi c'è venga a trovarmi, così ci vediamo in tanti, quindi ciao!